Si è svolta con successo la sesta edizione del concorso della zucca più grande che per Dragoni è ormai diventato un appuntamento tradizionale che raccoglie ormai molti visitatori. L'evento che si è svolto in località Pantano, organizzato dalla Proloquo con il padrocinio del Comune di Dragoni, anche quest'anno è stato inserito nel calentario unico degli eventi promosso dal Consorzio Turistico del Proloquo del Meteo Volturno, presenti vari produttori provenienti da tutta Italia.